Vaaah Te che lei è bloccata ora Ma fai dovrà il tuo computer A qual è la? Grazie Cosa fa di particolare il 25enne Cristian E così figa? E facci insieme a correre Cosa che? Cosa che sia la musica po' Ma fai di cavità, ti ha raggiunto Figa ti deve ascoltare la musica che è merda Ti deve ascoltare i Rolling Stones figa Tu è la migliore? E' la mamma fa farla urli Ho capito, ma più di me ti ho raggiunto di decente con tutta la roba che c'è l'internet, porca bestia, non è mai avuto cantare. Alla radio c'è l'ho, ma che cosa fai a correre? Ma devi mettere su Facebook, che almeno ti alzano, cosa ti ascoltano. Ma, dai, ma che idee mi faccio come i matti un giro dopo? Allora ti ha pensato prima di ti raccogliare la roba. Perché la mia orella non è sempre guardata l'infattore, ma io credo che non fai a correre. Ed è il mio che ti ha un bambino, che detiene il telecomando. E la tua orella è raggiunto a incontrare, ti ha già per la televisione, ti ha già bloccato, porca bestia. Buona, la prossima volta la zappa la spacca e basta. Buona male mia, se ti chiedi adesso facendo il computer, adesso hai capito? Buona, va bene, ok, dai. Dai, dove hai il martello? Ma per te mi metterci le bambine invece di spaccare? No, 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 sei scemo, te, ti dici che hai aver guardato la merda. Grazie. Grazie.